Trovata la lanterna, riprendiamo e rientriamo nella grotta Chissà perché mi è stato detto di non entrare, lo scopriremo Vabbè dai Ok ok va bene dai C'è qualcuno che si lamenta, ah questi Ok questo è lo scontro con il cane deforme che si vedeva nel trailer Ti curo guarda l'arena è gigantesca, ora si chiude e ve lo è il cancello Questo che si trisce qua non si va avanti di qua Io vorrei utilizzare questi echi Vorrei utilizzarli Allora evidente qua è l'avanterno, se muoio li puoi riprendere Non penso che sia neanche il tempo di pagare la macchia Speriamo Non è Ludwig il primo cacciatore Una scada complicata Vabbè Vabbì pietà Vabbì pietà No Un corpo a meno per la voglia. 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 Ah, che c'è il diritto di cosa. Ah, che cazzo! 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 Che succede? Che cosa succede? No, a metà è arrivato! Molto umano! Ah, sei rimasta al mio fianco per tutto il tempo! La sfonda non la trova adesso! Mia unica mentore! Mia luce guida! La sfonda di Ludwig! Amassata il mondo, guarda che c'è la persona! Oh! Scusa, amassata! Mia! 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 trasformazione alla prossima volta comunque sono stato bastonato abbastanza per ora a dopo ciao